Sei anni fa, il 29 maggio 2012, l'Emilia veniva sconvolta da una seconda violenta scossa che seguiva quella avvenuta pochi giorni prima nella notte del 20 maggio. Un sisma di intensità analogo al primo, ma con conseguenze più gravi essendo arrivato alle 9.02 del mattino quando molta gente era già al lavoro. Proprio per questo il clou dell'iniziativa del programma 6 in piedi, promosso dalla Comune di Ferrara assieme a diversi partner per ricordare gli eventi sismici del 2012, si sta svolgendo in queste ore. Nella mattinata di martedì 29 maggio alle 9.02, Ferrara ha ricordato le 23 vittime facendo suonare contemporaneamente tutte le campane della città. Un'iniziativa che ha aperto una lunga giornata che presso il cantiere sul Sagrato del Duomo ha visto l'inaugurazione di una mostra per raccontare quanto realizzato in questi sei anni e quanto attenderci ancora per i prossimi. Dalle 10 a mezzogiorno gli studenti dell'Icea Roiti hanno avuto un incontro con le istituzioni della città per capire come proteggersi in caso di eventi sismici, mentre nel pomeriggio il dibattito si è spostato presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara per discutere su come comunicare i rischi sismici. Ferrara aveva dimenticato quanto accadde nel 1570 quando un violento terremoto sconvolse la città. Ad analizzare analogie ci ha pensato lo storico Francesco Scafuri, accompagnato da un video sulla storia dei terremoti del nostro territorio chiamato Dallo sconforto alla rinascita della Civitas. Diverse le iniziative anche in serata con gli interventi del presidente della regione Stefano Bonaccini e del sindaco di Ferrara Tiziano Tegliani per ripercorrere quanto successo in questi sei anni e la proiezione del film La notte non fa più paura con l'autore e attore Stefano Muroni. Spazio anche la danza con il flash mob sei in piedi in piazza Trento Trieste per ballare tango, danza moderna e bughi con le squadre di danza ferraresi.